La ventunesima giornata di Serie D si rivela un turno piuttosto avaro e amaro per le diverse ombre che compongono il raggruppamento E. Partendo dal Foligno alla vigilia dell'incontro Nofri aveva predicato concentrazione onde evitare spiacevoli sorprese contro il fanalino di coda De Ruta, alla fine invece i falchetti si ritrovano fermati proprio dall'ultimo in classifica che si prende un punto d'oro e interrompa a 7 la striscia dei risultati negativi di fila facendo precipitare invece a meno 8 i falchetti dalla capolista Pistoiese. Dopo un primo tempo in cui di Paolo e Brescia vengono stoppati splendidamente da Cunzi, nel secondo tempo i falchetti prima trovano il palo con Urbanelli su invitante assiste di Calzola poi approfittando dell'espulsione di Antonelli trovano il vantaggio con il solito di Paola bravo a ribadire in rete, un pallone ribattuto a lungo nell'area derutese. Gli ospiti però la festa se la guastano da soli, basta un calo di concentrazione per far tornare in gare i padroni di casa, traversone dalla destra e l'ex Fondi gira perfettamente alle spalle di Biscarini andando ad esultare proprio sotto i suoi ex tifosi scatenandone tutta la rabbia. Buon punto per il guallo Casacastalla, impegnato nel turno esterno in casa del Gioli Montemurlo. Gli uomini di Giunti confermano il buon momento trovando il vantaggio al 14esimo con l'ex Sulmona Abdija che mette al centro dove Maiella di testa prolunga sul secondo palo, dove ben appostato c'è proprio Tomassini che da due passi non può proprio sbagliare. I gualdesi prendono fiducia, forse anche un po' troppo e alla fine il Montemurlo ne approfitta. Fabri cogli impreparato Tofoni e lo infila alle spalle costringendolo all'atterramento. L'arbitro assegna il rigore che lo stesso Fabri metta segno freddando Di Nardo. Si mangia le mani anche il Sansepolcro che non va oltre l'1-1 con il Flaminia. Vantaggio bianconero con Cappini, l'esto in area a sfruttare un tocco fortuito di Gorini. Il pareggio arriva quando i biturgenzi intravedono la linea del traguardo con il bomber laziale Sciamanna che fissa il pareggio battendo sotto porta Becci, sconfitta senza attenuanti per il Trestina che all'Ancomarzo di Ostia viene travolto per 3-0 da Bianco Viola. Decisive le troppe assenze del gruppo condotto da Valori. La Ponte Vecchio invece farà Chiri. Brunori rompe gli induci nella prima frazione a favore dei Rossoverdi. Nella ripresa Esposito e il solito Gaggiotti rincarano una dose prima di essere riacciuffati nel giro di sette minuti dai sigilli di De Pasquale, Zuppardo e Ancioni per il 3-3 finale. Nell'anticipo del sabato esce sconfitto da Scandicci il Bastia per 2-1. La rete della bandiera per i biancorossi la mette a segno Palavisini.